Grande colpo per l'antimafia salernitana. Nella giornata di ieri, venerdì 25 agosto, è stato arrestato il latitante Vincenzo Confessore. Il boss di Pagani era a cena con la moglie in un ristorante di lusso a Napoli, quando è stato catturato dagli uomini delle forze dell'ordine. L'uomo, che era già stato raggiunto da un'ordinanza di custode a cautelare in carcere, è stato arrestato in un noto locale di Mergellina. L'attitante dal 2 dicembre del 2022, ultimo giorno nel quale si avevano sue notizie certe, gli vengono contestati vari reati, tra cui l'Associazione per delinquere di stampo mafioso, l'estorsione aggravata dal metodo e dalle finalità mafiose, nonché di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Le indagini andavano avanti da tempo e l'arresto è la conclusione di un lungo impegno da parte della Procura della Repubblica di Salerno, direzione di Sertuale Antimafia, della Polizia di Stato, unitamente al Reparto Territoriale Carabinieri di Nocere Inferiore e alla Compagnia della Guardia di Finanza di Cava dei Tirreni.